Sono trovarsi lì proprio la sera in cui danno l'addio alla società, due giocatori hanno fatto la storia di questa società. Però sinceramente la mia testa era a fare il punto e ci serviva per conquistare l'Europa. È arrivato Sarri, quindi le chiedo, lei presentandosi all'inizio di questa stagione, ha detto questo sarà un anno di transizione, le chiedo se arrivare in Europa l'aveva messo in conto oppure è qualcosa in più rispetto a quello che aveva previsto. Ma sai, abbiamo fatto un anno in cui abbiamo dovuto affrontare delle grandi difficoltà per tantissimi motivi, alcuni prevedibili, altri meno. Però poi il gruppo alla fine è riuscito, mi sembra, a superarle e ora si esprime su buoni livelli. Stasera abbiamo raggiunto il pareggio all'ultimo minuto, però mi sembra l'andamento della partita abbia ampiamente dimostrato che lo meritavano. Mi porto a questo punto già avanti e le chiedo se questa stagione già le ha detto dove questa squadra può migliorare, può crescere e se c'è unità di intenti con la società proprio per migliorare questa squadra per il prossimo anno. Penso di sì, penso che l'unità di intenti ci sia. Poi migliorare la squadra è facile a dirsi ma sarà molto più difficile a farsi. Studio. Stefano, di grandi stagioni. A me sembra, sono d'accordo con lei, che la Lazio è migliorata durante la stagione. Nel senso che adesso gioca bene, anche oggi, anche nel primo tempo, fino a 25 metri dalla porta avete fatto un gioco migliore della Juve. La cosa più difficile è migliorare i movimenti difensivi perché secondo me anche oggi due gol erano evitabili. A che punto è il suo lavoro, coralmente parlando? Se lei può fare un'analisi sulla squadra, su quello che rende e quello che rende meglio. Dal punto di vista della linea difensiva, a livelli di movimento, adesso sbagliamo molto meno rispetto al primo. Abbiamo dei deficit negli uno contro uno, sul cui stiamo cercando di lavorare, ma è difficile. Le statistiche nostre parlano di questo. La squadra in questo momento mi soddisfa perché il gruppo si è molto compattato. si è cominciato a pensare veramente calcio tutti nella stessa maniera. Questo è un aspetto importante. Ciao Giuseppe Benedini, come stai? Bene, ciao. Come stai tu? Io guarda, non ho molta voce perché come sai noi ci accontentavamo di un ingresso in Europa League alla fine di Juventus-Lazio ed è arrivato proprio nell'istante finale della vostra festa, perché era la festa di Chiellini, la festa di Dibala. E a un certo punto sembrava che ero collegato con Juventus TV perché non riuscivo più a vedere la partita. E alla fine c'è stato questo gol che a voi non cambia nulla. Però per la Lazio è la matematica certezza di giocare in Europa League il prossimo anno. Per rispetto degli ospiti, che tu sei ospite, grazie di Piazza Libertà oggi per questo episodio, parliamo proprio della serata di Chiellini e di Dibala. Insomma, un'emozione grande soprattutto nel primo caso, no? Sì, la bandiera, l'ultima bandiera del calcio italiano mi sembra che se ne va. Mi sembra, poi potrei perdere qualcuno, però mi sembra l'ultima grande bandiera del calcio italiano che lascia la Juve, che poi comunque è la squadra numero uno in Italia, anche se in questo momento non lo è, però per storia nel campionato italiano è il numero uno che lascia la ex numero uno perché non lo è più. Ecco, la partenza, anzi la fine di un ciclo forse si legge proprio nell'addio di Chiellini in una serata incredibile perché c'era un'atmosfera veramente straordinaria e questo è un grande omaggio appunto a Chiellini. C'era anche l'addio di Dibala, è stato forse anche un pochino più commovente perché Chiellini ha lasciato col sorriso, Dibala invece era molto molto affranto. E Chiellini ha fine carriera e come penso abbia detto tante volte ultimamente lui preferiva lasciare quando ne aveva ancora da dare alla squadra quando preferiva lasciare non da peso, non da giocatore che sta lì soltanto perché ha 17 anni che ha la Juve e quindi deve giocare per forza. Dibala invece è tutta un'altra storia, la Juve è società che ha deciso che con lui non vuole più fare i conti, ma nel senso monetario, non nel senso professionale perché Dibala tecnicamente non si discute, e poi dopo è chiaro che sono un po' di stagioni che gioca a metà. Fa metà campionato di partite, fa la metà dei gol di quelli che gli si richiede, la metà delle giocate di quelle che si chiede a un giocatore del suo talento. Quindi hanno detto vabbè dobbiamo dargli 10 milioni che poi dopo la fine sono 20, tanto vale dargli a qualcun altro, perché non ha un rendimento da giocatore da 10 milioni anche se il valore tecnico è quello, come estro, come genialità ce l'avrebbe, però è un po' troppo tempo che non lo dimostra. Ecco abbiamo parlato di 2D e poi c'è un ritorno in mezzo, anzi no, un ritorno che è quello di Sarri, che è tornato allo stadium pareggiando una partita molto complicata, e come hai visto la Lazio? Insomma ti sei un po' divertito, hai visto un po' di calcio finalmente, perché voglio dire la Juve ha fatto due di rimporta, due gol. La Juve dopo che ha fatto il secondo gol di Morata, poi dopo non ha più passato la metà campo, mi è parso. Forse no, ha fatto lì, c'è stata quell'occasione di Kane che ha quasi fatto due all, se l'avesse buttato dentro probabilmente sarebbe finita lì la partita, però alla fine mi sembra che la Lazio abbia proprio meritato almeno il pareggio, cioè probabilmente abbia meritato qualcosa di più per quello che si è visto in campo. Ecco ma tu che hai visto la Lazio di Sarri, hai visto la Juve di Allegri, hai visto la Juve di Sarri, stasera c'era un po' un dilemma, voglio dire è stato il primo anno che la Juve non ha vinto nulla, non ha giocato benissimo, ma d'altronde non è questo il credo di Allegri, il credo di Allegri è quello che abbiamo visto stasera, due tiri in porta, due gol, d'altronde si vince così, però voglio dire in panchina c'era un tuo collega fumatore, che è Sarri, che però non aveva la disponibilità che hai tu adesso, però ha dimostrato ancora una volta che insomma col gioco qualcosa si può fare, ha raggiunto l'Europa Liga con una squadra nettamente in fiera della Juventus. Ecco, i tuoi preferiti, cioè il tuo stile di vita calcistico, è più dalla parte di Max o dalla parte di Maurizio? Il mio stile di vita calcistico è più dalla parte di Antonio Conte, più che di Sarri o di Allegri. Sarri secondo me è quello che non ha avuto la Juve, che forse invece avrà la Lazio, che ha avuto a Napoli è stato il tempo, che è quello di cui ha bisogno, perché è un talebano del calcio, è chiuso nel suo credo, però è un credo che funziona, probabilmente non funziona per vincere e convincere, forse non ce la fa, al Chelsea quando c'è stato comunque l'Europa Liga l'ha vinta, alla Juve ha vinto uno scudetto che forse è sottovalutato, secondo me, perché molto probabilmente ha avuto tante più difficoltà di quelle che sono state poi mostrate sul campo, perché poi alla fine la classifica diceva che la Juve ha vinto con pochi punti di distacco sulla seconda, ma aveva già vinto 4-5 giornate dalla fine del campionato. La seconda che era la Lazio, che è crollata dopo il Covid, insomma, quello è stato anche un… Eh, sì, sì, poi dopo non so se fosse l'Inter la seconda, perché ci racconta poi ai punti, sembra che ci fosse Juve, l'Inter, forse… Sì, sì, certo, certo, assolutamente. Però prima del Covid era la Lazio proprio di Inzaghi che stava lì. Sì, c'era la Lazio di Inzaghi, ma la Lazio di Inzaghi comunque non si smettisce mai, sotto questo punto di vista, perché ha fatto la stessa cosa che ha fatto alla Lazio, l'ha fatto all'Inter, cioè è arrivato a dicembre che sembrava dovesse distruggere il mondo e poi invece è crollato. Sì. Non so se si è crollato perché fino a dicembre è stato ancora l'Inter di Conte e poi dopo è diventato l'Inter di Inzaghi. Così sei crudele con il povero Simoncino, diciamo insomma che sono state delle problematiche anche legate agli infortuni. Non voglio essere crudele in confronto di Simone Inzaghi, è che secondo me questo vale per qualsiasi allenatore, soprattutto allenatori che mettono un'impronta importante, decisa sulle loro squadre come Conte, come non so, poi adesso dico Guardiola, Klopp, quella gente lì. Poi è difficile che arrivi un allenatore e faccia vedere subito quello che vuole lui, perché poi alla fine l'Inter ha sbagliato tanti, ha sbagliato, ha mancato tanti risultati in quel periodo in cui non riusciva a vincere, ma non giocava male, l'Inter di Inzaghi non è una squadra che gioca male, non ha mai giocato male, quindi probabilmente a livello fisico poi dopo è andato un po' in down, ma comunque dovevamo parlare di Sarri. Sì, dobbiamo parlare di Sarri, ma è evidente che tu sei legato molto al gioco quasi pratico. No, però Sarri probabilmente avrebbe avuto bisogno di un po' più tempo la Juve, però forse lui stesso non lo voleva. Allegri invece ha bisogno di giocatori più forti, ha bisogno di gente con più attributi, nel senso che lui secondo me lascia molta libertà ai suoi calciatori. Infatti, quando era al Milan che c'erano ancora tanti grandi campioni, le partite lui poteva anche non andare in panchina, le vincevano loro. Senti, ma è destino che vi ha segnato all'ottimo minuto Milinkovic? Perché parlavo di un mezzo ritorno, potrebbe essere un giocatore. Ma io lo vedo veramente duro. Quanto vuole l'ottito per Milinkovic? Ah, non lo so, lo chiamiamo, però sicuramente si parte da una base di 70 milioni. La Juve ha già speso 70 milioni per Vlaovic. Il vero è che la Juve, in una società per azione, fa i bilanci annuali. Sicuramente l'acquisto di Vlaovic rientra nel bilancio precedente. Il bilancio precedente, però la vedo un po' improbabile che la Juve prenda anche Milinkovic. Non lo so, non lo so. Tanto in tribuna c'era Leao, ma Leao è andato a vedere il suo amico Cabral, perché se non sbaglio hanno giocato insieme con i due. Sporting. Sì, esatto, quindi niente, è stata questa emozione. Io sono contento di averti ritrovato qui, anche se in forma virtuale, ma ci sarà tempo per incontrarci in forma reale. Grazie per aver partecipato al podcast di Piazza della Libertà. Io adesso posso tornare a urlare, a fare i miei show. L'anno prossimo sarà più divertente per la Lazio. No, la stagione finisce qui, perché come sai, la prossima settimana c'è la vittoria dell'Inter Toto da parte di Murigno. È sicuramente qualcosa che per noi cambierà un po' i nostri giorni in città, però alla fine proviamo a resistere. È tutto da vedere, sai, i finali, però Murigno di solito non le sbaglia, no? Non le sbaglia, sì, non le sbaglia. Di solito non le sbaglia, poi dopo... Mi metterò come suoneria questo, di solito non mi sbaglia, non le sbaglia. Di solito no, però... Però, è dura? Cosa vuoi fare? Nulla, nulla, per me è già nella loro bacheca, sono contento, almeno si rilascono a parte di dieci anni. Intanto l'anno prossimo voi partecipate a una competizione molto più difficile, anche l'anno prossimo, perché poi comunque l'avete fatto anche... Anche quest'anno, certo, ormai, insomma, sono sei anni. Ma poi nel ranking la Lazio non è tipo la seconda squadra italiana o qualcosa del genere. Ma non lo so, non lo so, sinceramente farei volentieri, baratterei questa cosa con la vittoria degli amici di Rotterdam, quindi non c'è problema. Gliela porto proprio io, gliela porto. Grazie. Insomma, l'anima europea la Lazio l'ha sempre avuta, però. Assolutamente. Grazie Giuseppe. Grazie, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.